si massaggia la coscia perché comunque il colpo l'ha preso subito Codeca a posizionarsi per concentrarsi al meglio e quindi pronto il duello tra Codeca e Pizzardi Codeca al tiro e spiazza il portiere signori la zampata del giaguaro la zampata del giaguaro sul calcio di rigore risultato che cambia 1-0 Pavia Academy Tugnoli si incarica della punizione può anche cercare Zella infatti va da lei perché era abbastanza sola straniero ancora per Zella mette giù Zecchino poi scambia in velocità per accoliti pallone che passano trova Berglund il tiro incredibile Gigi che gol ha fatto il gol di Berglund l'antenata dei giganti ha colpito Gigi un gol incredibile finalmente Sara Berglund con un movimento assurdo che ha fatto per andare a prendersi questo pallone grandissimo gol che ci ricorda ancora una volta le qualità di questa giocatrice giocatrice fantastica Filippo ha fatto un'azione su questo cross di Zecchino c'è stato il velo non velo di accoliti tanto ha scalato anche ha scalato anche Zecchino a dare una mano in difesa perché Dubini era fuori posizione palla dentro Dubini spazza via poi Codeca cerca Accoliti che porta sul pallone Accoliti Salterio la chiama a puntare l'uomo Accoliti serve Codeca c'è anche Zella dall'altra parte e Codeca con il mancino la zampata del Jaguaro Gigi che vale il 3 a 0 allo scadere del primo tempo bellissima questa azione è stata bellissima questa azione Filippo perché comunque è partita tutto dal recupero palla dove Accoliti ha fatto tutto quanto da sola portato palla in mezzo Zella era larghissima sulla destra ma a sinistra Codeca aveva fame Zella recupera un buon pallone che non esce allora permette ad Accoliti di andare in pressione Tugnoli si alza un campanile poi Dubini altro campanile e processo che recupera palla il filtrante è interessante l'uscita di Passarella la conclusione e arriva il gol di Bisi gol di Bisi ha provato a uscire Passarella è uscita forse con un secondo di ritardo e Bisi non l'hanno tenuta e ha calciato tanto qua Pro Sesto che tiene in campo palloni importanti De Vecchi prova a tenere lì l'uomo per me oggi l'NVP è straniero straniero attenzione intanto qua all'imbucata al tiro e arriva al 3-2 Gigi clamoroso 46-40 Gigi attenzione a Longoni a campo davanti a sé c'è Codeca vicino 3 contro 3 perché c'è anche Poletto all'altra parte De Vecchi prova ad andare via poi anche Poletto in disturbo Poletto guadagna un pallone interessante pallone in mezzo all'aria Codeca chiude i giochi sulla grandissima azione di Poletto qui Poletto è stata bravissima a capire la difficoltà del difensore nel tenere palla ha percosso quello che doveva percuotere Codeca è arrivata con la punta dello scarpino 4-2 che salvata che salvata Gigi tripletta per Codeca la zampata del giaguaro fretta la punizione pallone dentro passarella sporca ma non basta 4-3 4-3 4-3 2-5 3-5 4-4 5-5 6-7 9 9 10 10 11